C'è un medium molto contemporaneo che loro riescono a diciamo intuitivamente cogliere immediatamente e attraverso questo medium noi riusciamo ad interpretare filosoficamente il contesto del film e i concetti principali che possono essere desunti attraverso la filosofia. Ci piace molto questo format perché ci consente anche di fare filosofia al di fuori dell'aula scolastica, ci consente di fare cultura nei luoghi della città che sono adibiti alla costruzione di un dialogo culturale quindi in un certo senso la scuola esce un po' dalle sue aule tradizionali ed entra in quelli che sono i templi della cultura. Infatti sono tanti anni ormai che collaboriamo con Star Cinema e durante il Nightmare Film Festival e le Visioni Fantastiche abbiamo potuto avere lo spazio di condurre queste masterclass di cinema e filosofia che sono sempre state piacevolmente partecipate dai ragazzi proprio perché consentono un approccio un po' alternativo e diverso alla filosofia sostanzialmente. Oggi parliamo di Don't Look Up che è un film sicuramente attualissimo e molto interessante per i ragazzi perché parla di temi molto importanti e molto cari anche alla loro generazione, riflessione, parla dei cambiamenti climatici del modo in cui le informazioni vengono veicolate, manipolate parleremo del relativismo dal punto di vista filosofico andremo indietro fino agli antichi greci, Protagora, Gorgia e poi parleremo delle fallace logiche, del linguaggio e anche di un nuovo concetto che secondo noi è importante da conoscere che è il capitalismo della sorveglianza. Per noi è importante attraverso questo film riflettere insieme ai nostri studenti sulla situazione attuale e per acquisire una maggiore consapevolezza rispetto alla nostra posizione nella natura e per anche favorire dei comportamenti ecologici e sani nel rispetto dell'ambiente sociale e naturale. Grazie. Grazie.